Tra consulenti e opinionisti si è fatto un gran chiacchierare della chiamata che sarebbe andata nella mattina del 14 tra le 10 e 50 le 11 nella segreteria telefonica. Parliamo ovviamente di una chiamata ricevuta dall'iPhone di Liliana. La chiamata potrebbe essere stata trasferita alla segreteria anche da Sebastiano se era già caso ma potrebbe essere successo anche qualcosa di diverso secondo quanto riscontrato da degli esperti informatici che hanno lavorato per due giorni su questo dettaglio. Il mistero di questa chiamata consiste nel fatto che davanti al numero che è uguale a quello delle altre chiamate c'è un 32 ed effettuata questa chiamata entra subito la segreteria. La chiamata evidenziata in rosso il numero è sempre quello di Liliana uguale a quello delle altre chiamate ma davanti in questo caso c'è un 32. Deposito diretto. Vuoi lasciare un messaggio nella segreteria di un cliente wind senza che il suo telefono squilli? Digita 32 seguito dal numero di telefono. Ad esempio 32 320 48 16 16 9. Il deposito costa come una chiamata verso un mobile wind secondo le tariffe previste dal piano tariffario sottoscritto. Personalizza la tua segreteria telefonica. Tante opzioni per rendere la segreteria telefonica sempre più tua. E ora facciamo un esperimento chiamando un numero wind e mettendo prima del numero il 32. Vediamo che cosa accade. facendo la premessa che da tutto ciò che sta emergendo è chiaro che sia Claudio che Sebastiano sono molto bravi dal punto di vista tecnologico. Quello che sta emergendo è che Claudio quella mattina avrebbe composto il numero di Liliana antecedendo il 32 chiamando per farsi rispondere non dall'interlocutrice ma direttamente dalla segreteria telefonica. Questo perché o perché come disse quella mattina per sicurezza gli serviva un alibi perché nella vita non si sa mai oppure perché sapendo che Liliana non aveva telefono ma che potesse rispondere Sebastiano lo volesse bypassare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, ragazzi, io per la faccia. Ehi, non dimenticare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.